Non senza malezza, dunque, assumo questa decisione perché mai mi piegherò ai vecchi riti della politica, mai potrò accettare l'insigenza di una classe dirigente che non ha avuto a cuore il bene comune, ma ha guardato a quello particolare, men che meno posso pensare di accettare l'aviltà di chi si nasconde dietro un dito e tira piedi. Il sindaco di Chiedi Umberto Di Primio si è dimesso. L'annuncio è arrivato questa mattina nel corso di un'affollata conferenza stampa dopo aver convocato una riunione di giunta. Nel mirino del primo cittadino sono finiti cinque consiglieri comunali di Forza Italia che non si sono presentati in aula questa mattina nel giorno in cui il Consiglio Comunale avrebbe dovuto votare il bilancio. Non si tratta di sconto, si tratta di senso di responsabilità. Ci sono delle richieste che noi abbiamo soddisfatto, alcune che non sono soddisfacibili e non c'è però possibilità di trattare con il ricatto. Siccome loro sono manovrati da qualcuno che dietro dice di comandarli, tant'è che oggi giustamente non sono venuti in Consiglio Comunale, ma io non sono uno che si fa certo comandare, ho deciso che non ci sono più le condizioni per andare avanti. Quindi ho rassegnato le mie dimissioni da sindaco, il centrodestra perde una grande occasione, cioè quella di fare pulizia al proprio interno, togliendo via delle logiche che non possono appartenere a persone serie. Io credo di aver fatto tutto quello che potevo. Credo di aver dato a questa città tutto quello che avevo in me, tempo, amore, passione. Credo di aver dato anche progetti finanziati e non chiacchiere come fa qualcuno. Noi abbiamo 37 milioni di opere finanziate che cambieranno il volto di questa città. Mi dispiace per coloro che subiscono i danni dalla mancata approfessione del bilancio. Lo subiranno i lavoratori innanzitutto, di quelle società che tanto si volevano difendere, perché senza bilancio ovviamente anche lì ci saranno problemi. Subiranno ovviamente un contraccolpo le tante ditte che aspettavano da due mesi. La Giunta ha approvato il bilancio il 18 di aprile. Oggi il Consiglio non è ancora in grado di approvarlo. Ovviamente questo comporta un danno per le ditte, perché non abbiamo soldi da poter dare loro, perché non c'è il bilancio. Mette a forte rischio, per alcuni casi è già, ahimè, ispirato il termine, alcuni finanziamenti che abbiamo avuto, che sono finanziamenti per il dissesto ideologico, non per la sagra delle Marocche. Ma insomma, voglio dire, di fronte, i latini avrebbero detto ad impossibilia ne motenetur. Io dico la stessa cosa. Cioè, di fronte all'impossibilità di far ragionare chi pensa al particolare e non ha a cuore la comunità, che è quello che noi abbiamo avuto a cuore in tutti questi anni, io non posso far nulla. Io non mi faccio piegare dal ricatto di qualcuno che dice o è così, oppure lo risolvo io il problema, oppure tutti a casa perché me ne vado io, perché nessuno si può permettere di rivolgersi a me con l'aria minacciosa, ricattatoria, che ha usato qualcuno. A questo qualcuno cosa vuole dire? Ma io penso che glielo ho già scritto. Mi sono dimesso. Grazie. Grazie.